Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Il contenuto della borsa che un uomo ha appena depositato sul retro della sua Mercedes Sanno che non sarà una perquisizione vana Ci sono 240.000 euro in contanti Ed è così che martedì una trentenne ha visto le fiamme gialle affiancarla a pochi metri dal casello di Rimini Nord Il cambio di vita dalla Baldinini al Fitness Boutique per Alessandra Baldinini In risciò fino a Bologna contro la violenza Altro richiamo con l'appello del sindaco Albergatori adesso investite per quanto riguarda la riqualificazione Poi ci sono in spalla due richiami di sport Il primo riguarda la MotoGP Barcellona chiama Bastianini e Bezzecchi Il secondo è la calcio di Serie C Rimini, Gorelli, vuole un futuro bianco-rosso E poi c'è anche un richiamo di cultura e spettacolo Domani il premio letterario Elio Pagliarani Lasciamo il Corriere momentaneamente per andare a vedere la prima pagina dell'arresto del Carlino Caos, bandi, danno d'immagine Ristorante degli spiaggia chiede un risarcimento al comune L'incertezza giuridica ci sta penalizzando In taglio alto la città che cambia Metromare, stazione Fiera Partite le notifiche di esproprio In estate scatta i miei lavori Fotonotizie di centro pagina Dedicata a Marco Carnesecchi Marco campione in Europa Il riminese Carnesecchi Alza la Coppa Dublino con l'Atalanta E oggi potrebbe essere nominato Miglior portiere della Serie A Ricettazione bloccata al casello Con 240 mila euro Denunciata a Sant'Arcangelo Cantiere ferroviario Grave incidente, operaio ferito A Villa Verucchio, a Dio Michela Una folla in lacrime E poi il podcast Del resto del Carlino Visto il finimondo I vivi e i morti dell'alluvione In taglio basso altri due richiami Esaspirate dei furti Nessuno ci protegge Piazza Gramsci La rabbia dei commercianti E ancora musica Nuovo album per Federico Baroni Federico Baroni E il suo blackout Restiamo sulle pagine Del resto del Carlino Andiamo a sfogliare le pagine interne A pagina 3 Si continua a parlare Della sabbia bollente Della battaglia sulle concessioni Locale fa causa Al comune Vogliamo 5 mila euro Per i danni d'immagine L'avvocato No ai bandi Altri operatori Ora chiederanno Un risarcimento Ci vediamo in tribunale Nel mirino del ricorso L'incertezza causata Dall'amministrazione La replica di Palazzo Garampi Abbiamo rispettato Le norme Al giudice chiedono Che il comune di Rimini Pagli un risarcimento Per il grave danno d'immagine Un danno che sarebbe causato Dall'incertezza Del quadro giuridico Dopo che Palazzo Garampi E' deciso di rinnovare Le concessioni balneari Di un anno Fino al 31 dicembre Legando l'atto Della proroga Alle future gare Per assegnare Le attività di spiaggia L'atto E' già stato impugnato Al TAR Da cooperative dei bagnini Consorzi E associazioni di categoria In un caso I giudici del tribunale Amministrativo Si sono già pronunciati A marzo Bocciando la richiesta Di sospendere Il provvedimento Del comune di Rimini Presentata da un gruppo Di titolari di bar I ristoranti di spiaggia In attesa di capire Che ne sarà Delle concessioni Se il governo Farà bandi o meno Ora è partita La battaglia legale Per i risarcimenti I primi a chiedere I danni Alla comune di Rimini Sono stati titolari In un ristorante di spiaggia Vicino a piazza Marvelli Subito le regole Per fare le gare E gli indennizzi Agli operatori Lega Cop Fondamentale Il ruolo della regione Croatti Del Movimento 5 Stelle Il governo Affonda i balneari Benvenga la regia Della regione Nella preparazione Di bandi pubblici Che i comuni A breve saranno Costretti ad affrontare Per assegnare Le concessioni De maniali Lega Cop Romagna Plaude Le parole Dell'assessore Al turismo Andrea Corsini Che ieri sul carlino Ha presentato La strategia Della regione Nel momento In cui il governo Dovesse continuare Con i silenzi In materia di evidenze Pubbliche Sulle concessioni Scadute Voltiamo pagina Metromare Corsa contro il tempo E spropri Urgenti Per avviare I lavori Il comune Occupa le aree private Interessate Dall'intervento Che dovrà iniziare Entro il 30 giugno Giannini dice Provvedimento necessario Con alcuni proprietari Non è stato raggiunto Un accordo Stefano Giannini Per la maggior parte Dei terreni È stata già trovata Un'intesa Non potevamo più Aspettare Per gli altri Ancora appunto Le sue dichiarazioni Un'opera Da 60 milioni Finanziata Con i fondi Del PNRR Grazie al nuovo Tratto Di Metromare Il Metromare Potrà correre Dalla stazione Di Riccione Alla Fiera di Rimini In 31 minuti Su un percorso Lungo 14 chilometri Con 23 fermate Totali Il prolungamento Del TRC Costa 60 milioni Finanziati Come detto Dal PNRR Il sindaco Agli albergatori Riqualificare si può Ma adesso Tocca a voi Incontro con gli imprenditori Al Teatro Galli Per svelare Tutte le possibilità Sade Golvad Dice ancora Inutile attendere Aiuti da Roma Rimbocchiamoci le maniche L'esperto Santinato Dice il comune Ha preso La strada giusta Ora sta agli operatori Fare la propria parte Inutile aspettare Fondi da Roma Per interventi risolutivi Per la riqualificazione Alberghiera Nessun governo L'ha mai fatto E credo mai Lo farà Visti che eri di luna Delle finanze pubbliche E allora Rimbocchiamoci le maniche E muoviamoci da soli E' uno dei passaggi Dell'intervento Di Jamil Sade Golvad Ieri al Teatro Galli Davanti Alla folta Platea di imprenditori Arrivati per la presentazione Del nuovo sportello Informativo Per titolare Gestori di alberghi E non solo Piazza Gramsci Senza pace Sedati da ladri E vandali Arruoliamo I vigilantes Questa appunto La proposta Spaccata Alla parafarmacia Officinale Durante la festa Di Santa Rita Commercianti Esasperati Dicono Anziani Spaventati Da malviventi E ubriachi Il precedente Il 14 maggio Il titolare Della pizzeria 2000 Era stato Aggredito Da un trentenne L'adrinazione Alla parafarmacia Officinale Di via Cornelia A due passi Da piazza Gramsci Si tratta Del secondo colpo In pochi mesi Dopo quello Messo a segno Lo scorso ottobre Il blitz Scattato Intorno alle 22 Dell'altra serie Malviventi Spiega la titolare Elena Morolli Non ne si sono fatti Spaventare Dal fatto Che a quell'ora In piazza Ci fossero ancora Tantissime persone Per la festa Di Santa Rita Da Cascia L'altra volta Erano riusciti Ad introdursi Nel locale Passando attraverso Un cantiere Stavolta invece Sono entrati Nel condominio Che confina Con la parafarmacia Hanno attraversato Il corridoio Raggiunto Un giardino interno E a quel punto Hanno forzato La finestra Del bagno Per introfularsi Da noi I ladri Non hanno però Trovato granché Da rubare Dopo l'ultima volta Continua Morolli Non lasciamo più soldi Nella cassa Non potendo mettere Le mani sul denaro Hanno così pensato bene Di rubare Delle confezioni Di farmaci E qualche profumo Sono rimaste All'interno Almeno Una quindicina Di minuti In auto Con 240 mila euro Donna fermata Al casello Denunciata Per ricettazione Dalla guardia di finanza Una trentenne albanese Si sospetta Che il denaro Confiscato Possa provenire Da attività illecite Una busta Della spesa Piena zeppa Di banconote Massette di soldi Avvolte Nella pellicola Trasparente Un vero e proprio tesoro Circa 240 mila euro Lei Una ragazza albanese Di 30 anni Fermata dai militari Della guardia di finanza Martedì scorso Nel parcheggio Del casello Di Rimini Nord Non avrebbe saputo Fornire alcuna spiegazione Sulla provenienza Di quella montagna Di denaro E' stata denunciata A piede libero Con l'accusa Di ricettazione Mentre sono in corso Delle verifiche Attorno alla grossa somma Che è stata messa sotto sequestro Dalle fiamme gialle Su disposizione Della procura Di Rimini Il sospetto Degli inquirenti E' che possa trattarsi Del frutto Di qualche attività Tutt'altro che legale In giro Con la droga Di Maradona Puscher Affermato dai carabinieri Scoperta anche Una serra Di marijuana Un panetto Di hashish Con sopra La foto Del suo beniamino Diego Armando Maradona I carabinieri Del nucleo investigativo Del comando Provinciale di Rimini Hanno arrestato Un giovane nordafricano Con l'accusa di spaccio Nei giorni scorsi I militari dell'arma Hanno notato Nella zona Del lungomare Di Miramare Lo straniero Mentre raccoglieva Qualcosa di voluminoso Nascosto tra le piante Per poi metterlo Velocemente Nella tasca Della tuta Un atteggiamento Che ha insospettito I carabinieri Che hanno proceduto Ad un controllo Rimvenendo Nella tasca Della tuta Del ragazzo Un panetto Aperto di hashish Dal peso Di 94,47 grammi L'unione di terra E mare La sfida Dello chef Biuso Al ristorante Vita A San Patrignano Ecco Talea Per clienti Vegetariani E vegani Nelle portate Del menù I prodotti Dei campi Si uniscono Anche Alle alghe Pizza da record In spiaggia Vogliamo sfornarne 20.000 All'obiettivo Di Medoro Un vero boom Di pizzerie Nel centro storico Di Rimini Quello che è accaduto Negli ultimi mesi Non ha precedenti Da Berberè A Pizzium Passando per Giulietta Eno Strano Siti In poco tempo Sono aumentate Le opportunità Di gustare pizza Nel cuore della città Ma la vera sfida È sulla sabbia N'è convinto Il pizzaiolo Alessandro Medoro Pescarese Trapiantato A Rimini Un vino Per raccontare La storia A Riminum Presentato Al Fulgor La nuova creatura Della tenuta Santini Così Completiamo La pagina Di eccellenze A tavola Del Carlino La capitale Dello sport Una città In movimento Presentate Le 240 Attività Del fuorisalone Al Rimini Wellness Via il 30 maggio Il sindaco Sede Golvad Dice in questo modo Sempre più vicini Al benessere La casa del wellness Non sarà solo Il palafiera di Rimini Ma tutta la città Dal parco del mare Alla piazza Sull'acqua Passando per le vie Del centro storico La diciottesima edizione Della fiera del wellness Sta per tornare in Romagna Dal 30 maggio Al 2 giugno Rinnovando anche quest'anno Il grande fuorisalone Del fitness Del benessere Dello sport diffuso Per le vie riminesi Presentato ieri mattina Il Rimini Wellness Off Che si prepara A riempire la città Di palchi Palestra Cielo aperto E attrezzature Trasformando lo sport In una vera e propria occasione Di incontro Tra le persone La giornata della legalità A scuola Canti e balli Per rompere il silenzio I 450 studenti Di Viserba Hanno confezionato Di fiori simbolo Da regalare Ai negozi Della zona Tanti colori Canzoni e balli Di bambini Per la giornata Della legalità Celebrata ieri mattina A Viserba Dove si è creata Un'atmosfera gioiosa E allo stesso tempo Commovente Che ha contagiato Tutti coloro Che hanno partecipato Un momento che è coinciso Col 32esimo anniversario Della strage di Capaci In cui perse la vita Giovanni Falcone Insieme alla moglie Francesca Morvillo E gli agenti Della scorta Un milione Per la sicurezza Delle chiese Fondi dal PNRR Un milione di euro E spiccioli A tre comuni Della provincia Di Rimini Per la messa In sicurezza sismica Di luoghi di culto Torri e Campanili Complessivamente Dal Ministero della Cultura Sono state istanziate A livello nazionale Risorse per 129,3 milioni Per 167 luoghi di culto I comuni del Riminese Che ne beneficeranno Sono Montescudo Monte Colombo Con 235 mila euro Per la chiesa di San Savino Nova Feltria Con 470 mila euro Destinata alla chiesa Di Santa Maria Assunta In Torricella Infine Sant'Arcangelo Dove il Ministero Ha stanziato 320 mila euro Per lo storico campanile Della chiesa Di San Michele Arcangelo La collegiata Voltiamo ancora pagina Andiamo nelle pagine di Riccione Anche il porto canale Diventa un salotto Niente auto Spazio e pedoni La nuova passeggiata Sarà pronta Entro l'estate Cambia la cartolina Di uno dei luoghi simbolo Della città Al porto È iniziato il conto La rovescia Dalle 7 di lunedì Fino alle prime ore Del mattino Di giovedì Viale Bellini Rimarrà chiuso al traffico Per consentire Le operazioni Di asfaltatura Poi sarà una questione Di giorni Prima dell'apertura Al pubblico Del nuovo tratto Di passeggiata E ciclabile Lungo il canale Nel tratto compreso Tra Viale D'Annunzio E Viale Dante Il convegno dei medici Fa bene anche al turismo Oltre 1200 presenze Come prima della pandemia Si è tenuto al Palace Dermatologia per la pediatria Esperti da tutta Italia Sono in arrivo a Riccione Spiaggia e verde Ecco le ricette Misano I programmi Dei tre candidati sindaci A confronto Turismo Ambiente I temi più caldi Dal tavolo operativo Per la bellezza Proposto dal candidato Sindaco Marcello Tonini Alla Casa della Cultura Nell'ex municipio Di Misano Monte Che vuole realizzare Il candidato Fabrizio Piccioni Fino ad arrivare Ai motel Ristoranti E mense Che Antonio Mignani Vuole far realizzare Nelle aree produttive Per renderle vive Sono tante Le proposte Che si trovano Nei programmi elettorali Dei tre candidati sindaci Per Misano Andiamo a Cattolica Un anno e mezzo Di lavori L'ospedale cambia volto Al Cervesi 16 posti letto in più Intanto Gli ambulatori Traslocano in via Mentana Lunedì alcune attività Ambulatoriali specialistiche Dal primo piano Dell'ospedale Domenico Cervesi Di Cattolica Saranno trasferite Nella ex casa di riposo Giuseppina Galli Questo provvedimento È necessario Per consentire i lavori Di realizzazione Del nuovo ospedale Di comunità Il nuovo porto di Cattolica Prende forma A giugno sarà inaugurato Il primo tratto pedonale Interventi sono finanziati Dalla regione Già conclusi Quelli alla banchina Di scarico La pagina di Bella Reggio Marina Il nuovo molo Getta le basi A tempo di record Posizionati Dai pontoni Massi Che faranno Da fondamenta Al prolungamento Del porto I lavori saranno Completati Dopo l'estate Il nuovo molo Non si vede Ma c'è Almeno la base Per il prolungamento Del porto Lato Igea Il primo step È stato concluso A tempo di record Per gettare La prima fila Di massi ciclopici Pontoni Chiatta Della ditta Mentucci Hanno lavorato Giorno e notte Straziante Addio a Michela Tra rose Rosse Pelusce E le sue canzoni Preferite Chiesa gremita Per i funerali Della 25enne Morta Nell'incidente Di domenica Tutto il paese Di Verucchio Si è stretto Al dolore Della famiglia Lazzaretti La barra bianca Ricoperta Da rose rosse E dai pelusce Di Stitch Il suo personaggio Disney preferito La chiesa Del convento Di Santa Croce Tipata Come non mai Di persone Specialmente Giovani E giovanissimi Le canzoni preferite Di Michela Come un pittore De Modà Tutto più semplice Di Mosè E domani Di Gigi D'Alessio Che risuonano Nel piazzale Per accompagnarla Nel suo ultimo viaggio Fino al cimitero Un paese intero Quello di Verucchio Ieri si è fermato Per l'addio A Michela Lazzaretti La ragazza Di 25 anni Morta nell'incidente Avvenuto domenica Scorsa a Savignano Una tragedia Che ha lasciato La comunità Verucchiese Sgomenta E territa Ma unita Nel dolore Stretta Nel cordoglio Attorno ai familiari Papà Giancarlo Candidato a sindaco Nella lista 3V La mamma Manuela La sorella Alessandra Del fidanzato Antony Morra San Marino Cinque truffatori Spillano soldi A un anziano I malviventi Sono stati identificati Dalla guardia di Rocca Uno di loro Si era finto Direttore dell'ufficio postale Hanno architettato tutto Nei minimi particolari Ma non l'hanno passata liscia Sono stati segnalati All'autorità giudiziaria Cinque persone Quattro donne Un uomo Tutte residenti Nel napoletano Che hanno truffato Un anziano San Marinese Chiudiamo con questa notizia L'arresto del Carlino Per dare un'occhiata A qualche titolo Tratto da quotidiano sportivo Andiamo come dico Un seto in taglio basso Per vedere I titoli che riguardano Più da vicino Il nostro territorio Baseball di Serie A San Marino e Parma Sfida tra Regine L'Ettritico Mette in palio Il primo posto E poi calcio di Serie C Da Caserta Ad Andreoletti Valzer di nomi Il Rimini deve scegliere Il nuovo tecnico Piace sempre Barilari Ex Sestri Levante Andiamo nelle pagine interne Per riprendere La fotonotizia Della prima pagina Del resto del carino di oggi Carne secchi Sul tetto d'Europa Da Bella Riva Al trionfo di Dublino Il portiere dell'Atalanta Alzato la Coppa Potrebbe essere premiato Come miglior estremo difensore Della Serie A E intanto Per quanto riguarda Il totto allenatore In casa biancorossa Da Caserta Ad Andreoletti Valzer di nome In casa Rimini Società alla ricerca Del nuovo tecnico E intanto Per chi cerca Un nuovo tecnico C'è chi invece Lo conferma Per il decimo Anno consecutivo È il Pietracuta Con mister Fregnani Che fa dieci Con il Pietracuta Campionato ovviamente Di eccellenza Con questa notizia Chiudiamo anche Queste Ci fermiamo Per una breve pausa Dopo la quale Sfogheremo insieme Anche le pagine interne Del Corriere Romagna Restate con noi Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa Nuovamente insieme Per sfogare Come promesso Le pagine interne Del Corriere Romagna Allora In primo piano L'omicidio di Civitella Con il verdetto Condanna Allergastolo Per Daniele Severi Ha ucciso Il fratello La sentenza Dopo sette ore Di Camera di Consiglio L'imputato Riconosciuto Colpevole Del delitto Con decapitazione Di Franco Di 53 anni I fratelli Dicono Giustizia È stata fatta E non è Una vendetta La famiglia di Daniele La nostra lotta Continuerà Questi appunto I commenti A caldo Il dispositivo Le parti civili Dovrà risercire Gli altri Cinque fratelli Con 100 mila euro Provisionale E in attesa Di provvisionale E in attesa Del giudizio civile Le dichiarazioni L'imputato in aula Prima che la Corte d'Assise Si ritirasse Aveva detto Respingo Tutte le accuse Sono in carcere Da innocente Alluvione A un anno Dal disastro In Romagna Estate di cantieri Per rifare le strade Travolte da Frane e Fango In Valconca Montescudo Montecolombo Una delle aree più colpite I lavori Sono in via di conclusione Per i comuni Della Valconca L'estate sarà Il mese cruciale Per il ripristino Delle tante vie Danneggiate dal maltempo Che ha devastato La Romagna Nel maggio del 2023 In tanti infatti Contano di far partire I lavori Ma c'è anche chi Come la comune Di Montescudo Montecolombo L'unico che ha registrato Degli sfollati Conta di terminarli Voltiamo ancora pagina Esplosione Sulla linea ferroviaria Operaio ferito al volto Da una scheggia Il dramma Durante i lavori Di manutenzione Portato all'ospedale Bufalini In elicottero E in gravissime condizioni È stato operato D'urgenza A Rimini Per lavoro E la giovane Un 32enne Campano Si trovava in Romagna Per svolgere un intervento Di manutenzione Alla linea ferroviaria Accertamenti in corso I tecnici Della medicina Del lavoro Stanno indagando Per mettere a punto L'esatta dinamica Dell'infortunio A una serra di marioana Nell'appartamento Di canapa Dentro all'appartamento Per ricettazione La ditta di autonoleggio Ha spiegato Delle forze Stiamo lavorando Dell'area ex questura E' arrivato Relativo alla costruzione Per 157 aree requisite E 2,9 milioni Da riconoscere I proprietari Dei terreni Esropriati Hotel da riqualificare Il sindaco esorta Albergatori investite Ora tocca a voi Nuovo piano urbanistico generale Incontro al Teatro Galli Lo Stato che aiuta Gli alberghi con i miliardi Non lo ritengo probabile Magari crediti fiscali Sportello dell'Aia In Viero Sospina L'ufficio in grado Di rispondere a dubbi E perplessità E illustrare Le opportunità Del nuovo Pug Gite scolastiche A Rimini Un'impennata Negli arrivi Aumentano gli ingressi Di gruppi scolastici Nei punti di attrazione Culturale della città Rimini cresce anche Come meta di gite scolastiche E aumentano gli ingressi Al museo della città E alla domus del chirurgo Arrivando a quota 10.000 più 9% Nei primi 4 mesi Di quest'anno E intanto Da maggio Fino al 7 giugno Le due sedi culturali Si preparano ad accogliere Altri 223 gruppi scolastici Per circa 4.650 studenti E organizzare 62 laboratori Previsti 1.300 ragazzi Mentre le prenotazioni Dei gruppi scolastici Autonomi Sono 46 Previste 1.900 presenze Voltiamo ancora pagina In Rischò fino a Bologna 135 km Pedaliamo contro le discriminazioni In prima linea Per battere la violenza di genere Associazioni cittadini ciclisti Si incontreranno Al bagno Community 27 Poi partenza Da Piazzale Fellini La lunga strada da fare In tre giorni Si partirà in direzione Cesena Domani la seconda tappa Con il percorso fino a Imola Domenica ultima tappa Verso Bologna L'intervista Dall'impero Baldinini Alla fitness boutique Così dopo 30 anni Ho cambiato la mia vita Alessandra Tra Gheredi Della celebra azienda Di calzature e accessori Ha aperto una palestra A lungo Ho imparato a guardare Al futuro Con spirito imprenditoriale E senso di disciplina La mia fitness boutique Incarna dunque Gli stessi valori Che a mio parere Dovrebbero stare Alla base Di tutte le aziende Sane e forti L'House Lancia I Caragiver Day Ecco tutti gli appuntamenti Il calendario Nel distretto Di Rimini Nord Include in totale Tre appuntamenti Voltiamo ancora pagina Rimini Wellness Esce dalla fiera Ermetti dice così Riempiremo la città Presentata l'edizione Off dell'evento Dal prossimo 30 maggio Al 2 giugno Previsti 240 eventi E 80 organizzatori Torno da oggi Salesiani in festa Tra musica, sport E divertimento Tre giorni di appuntamenti In occasione Della solennità Di Santa Maria Ausiliatrice Dopo il debutto Della primavera scorsa In occasione Della solennità Di Santa Maria Ausiliatrice Torna anche quest'anno Salesiani in festa Una famiglia Che si ritrova Un'amicizia Che si rinnova Nell'oratorio Salesiano di Rimini All'ombra del campanile Di piazza Marvelli Venerdì 24 Oggi quindi Sabato 25 Domenica 26 maggio Si vivranno Tre giorni di festa Di allegria Di musica Di sport Di spettacolo Di buon cibo In un clima Di gioia piena Con lo sguardo rivolto A Maria Ausiliatrice Ecco le Olimpiadi Diocesane I bambini protagonisti Il Vescovo Scende in campo Al seminario Vescovile Donoreste Benzi Di Covignano Per gli alunni Ed elementari E medie Un pomeriggio Di sport Amicizia E con tante proposte Sabato 25 maggio Quindi domani L'ufficio di pastorale Dello sport Della Diocesi di Rimini Organizza la prima edizione Delle Olimpiadi Di cesane Dello sport Al seminario Vescovile Donoreste Benzi Di Covignano Di Rimini Dalle 14.30 Alle 17 Voltiamo ancora pagina Andiamo nelle pagine Di Riccione Porto scattato Il conto Alla rovescia Nuova passeggiata Pronta per l'estate L'assessore Imola Dice In uno dei luoghi Più frequentati Amati dei turisti Cambierà la cartolina Della città Esercenti preoccupati Verranno a mancare Numerosi parcheggi Colori Suoni Emozioni In mostra Le opere De Galuni Dello Zavalloni Dal primo Alla 6 giugno Esposizione Dei ragazzi Della scuola Realizzata in collaborazione Con l'associazione Cuore 21 Carnevali Obiettivo Vincere il bando Per lo stadio comunale Parla l'esponente Di Master Group Sport Sempre più stretto Il rapporto con la generazione S Del Sassuolo Progetto ambizioso Per i giovani Purtroppo al momento Non abbiamo sufficienti strutture Così appunto Roberto Carnevali Che vediamo anche Ritratto in foto Calcio e ballo Spunta anche cecchetto Le prove generali Del tributo Alla Carrà Oltre al produttore Ieri al Palassicci di Coriano Presenti Le coreografo forti Ed il corpo da ballo Di 22 elementi Andiamo nelle pagine Di Cattolica Della Valconca Montefiore Conca Il ritorno Di Cipriani Nel Mirino La conquista Del terzo mandato Mi ricandido Per le richieste Dei concittadini E la desolazione Che vedo Nelle vie Del mio paese Andiamo nella pagina Di Bellare della Valmarecchia Verucchio Abbraccia la famiglia Di Michi Il papà Giorno straziante E devastante Celebrate ieri I funerali Delle 25enne Morta domenica scorsa In un incidente stradale A Savignano Sul Rubicone Voltiamo ancora pagina A San Marino Elezioni Nodo San Marinesi All'estero A Erracusa Non li vogliono far votare Monta la bufera Sul cambiamento Della norma Operato dalla segreteria Agli interni Lo scopo E farli sentire Un corpo strano E lontano Alle decisioni E alle scelte Del nostro paese A Longiano A Battesimo Una rete Di 25 chilometri Di sentieri Creata Una cartina Geografica Unica Con Savignano Domani camminata Per scoprire Una parte Dei percorsi E a proposito Di Savignano Cimitero rinnovato Adesso tocca al tetto Intervento Da 44 mila euro Che fa seguito A lavori iniziati Nel 2020 E che vanno avanti In vari stralci Chiudiamo con lo sport MotoGP È tutto pronto Per il Gran Premio Di Catalogna Tra Bezzecchi Bastianini Sarà derby Per l'Aprilia Uno dei due riminesi Potrebbe salire Sulla moto di Noale Dopo l'annuncio Del ritiro Di Espargarò A fine anno E andiamo a vedere Anche un'ultima notizia Che era stata richiamata Anche in prima pagina Gorelli Si vede ancora In maglia Rimini Rinnovo molto vicino La mia priorità È questa In Romagna Sono stato bene Credo che anche Che la società Lo sia stata con me Queste appunto Le parole Del difensore Matteo Gorelli Con questa notizia Chiudiamo anche Il Corriere Romagna Si conclude qui La nostra rassegna stampa Locale Oralina nazionale Noi ci rivediamo Se volete Alle 8.30 Per il nostro Icaro Tg Mattina Intanto vi auguro Un buon inizio di giornata Oggi in Edicola Rassegna stampa Rassegna stampa